Una delle principali novità che sono state aggiunte in Fortnite capitolo 2 è sicuramente la pesca. Grazie ad un nuovo oggetto è possibile sedersi in riva al lago o sulla sponda del fiume e usare lamo per acchiappare armi, materiali e altro ancora. Negli ultimi giorni tuttavia si è diffusa la notizia che, a quanto pare, è possibile pescare un rarissimo pesce dorato. Questi rumor derivavano da un particolare trofeo che lo menzionava, ma ben presto la speranza di trovarlo era drasticamente calata a causa dell'assenza di avvistamenti. Ecco che invece è stata dimostrata la sua esistenza da un utente Reddit, Blake Benbow, che ha pubblicato oggi un video in cui è incappato nel pesce dorato in modo alquanto triste e divertente. Il giocatore si è cimentato nella tipica usanza di ballare sulle spoglie del suo avversario caduto quando dal nulla. Ecco che appare un altro nemico e lo elimina dalla competizione con un singolo colpo. Il trofeo del pesce dorato è apparso nell'angolo della schermata di morte, confermando che è veramente presente nel gioco. Questo nuovo capitolo di Fortnite nasconde molti segreti ancora sconosciuti. E voi? Siete giocatori di Fortnite oppure no? Fatecelo sapere con un commento.